per il vostro collegamento che essendo da Roma è stato meno semplice che del nostro. Io ho esordito dicendo semplicemente che avrei fatto poi da presentatore, abbiamo diversi interventi importanti, cominciamo dai vostri, mi permetto solo di esprimere la mia personale soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo di collaborare ufficialmente con Carlo Robiglio, grande imprenditore con cui ho sempre cercato di trovare delle strade collaborative e sono grato all'amico Presidente Marco Gai di aver accettato di poter intervenire anche se erano entrambi impegnati a Roma. E quindi vi lascio la parola cari Presidenti, benvenuti e a voi il microfono. Grazie, grazie Riccardo, grazie a tutti e buongiorno. Mi scuso innanzitutto se non siamo lì con voi ma come hai detto bene tu eravamo Roma insieme ma allora ho approfittato per essere insieme qua col Presidente Robiglio, con Carlo per presentare questa iniziativa. Quindi inizio dando un saluto a tutti i partecipanti e permettetemi un saluto particolare a Francesco Jolie, Presidente di Skilllab. Parto nel dire che oggi credo che siamo tutti d'accordo, celebriamo un momento importante per il nostro Skilllab. Dico nostro perché come forse tutti voi sapete, Skilllab è il braccio operativo dell'Unione Industriale Torino nella formazione manageriale. La firma che andiamo a fare oggi dell'accordo con Pragma del gruppo Ebano e quindi di nuovo sono molto contento di essere qui con Carlo Robiglio, è un accordo importante perché Pragma è una società specializzata in soluzioni e piattaforme digitali per la formazione aziendale. Quindi in questa frase c'è quasi tutto quello di cui dibattiamo e discutiamo tutti i giorni, informazione, specializzazione, skills digitali e quella di Pragma mi vorrebbe da dire che è una vocazione, direi, integrale per l'innovazione, per l'accompagnamento di chi opera nelle imprese, l'accompagnamento al cambiamento. Quindi il cambiamento che oggi lo vediamo tutti i giorni nelle nostre aziende, nelle nostre associazioni è diventato inevitabile e è anche urgente per tenere il passo con le transizioni che stiamo vivendo, cioè quella digitale, quella tecnologica un po' più ampia e quella sicuramente ambientale. Quindi per non subire queste transizioni, queste evoluzioni, ma per cogliere le occasioni che io ne sono certo, ne deriveranno, occorre essere prima di tutto consapevoli di questa necessità, cioè del cambiare e quindi dotarsi degli strumenti necessari per farlo. L'alleanza tra skill e backpragma ha questo scopo, rendere le imprese, lasciatemi dire, più robuste, supportando le persone e le organizzazioni nel processo dell'innovazione e costruendo così le soluzioni migliori per le sfide che stiamo vivendo e ancora quelle che si presenteranno. Alcuni dei nostri imprenditori hanno già sperimentato in un progetto pilota con la piccola industria, la piattaforma di coaching che è molto potente e avanzata, che si chiama E-Dive e che è il cuore, devo dire, di questa nostra collaborazione. Com'è andata? La sentiremo dai colleghi e amici, Giovanni Fracasso di Overlab, Alberto Berrino di Berrino Printer. Quindi rinnovo nel dirvi che sono molto contento e mi fa ancora più piacere essere qui con l'amico Carlo Robiglio per presentare questa firma importantissima e auguro a tutti voi, ma fatemi dire a tutti noi, un buon lavoro, una buona formazione. Grazie. Abbiamo qualche problema di audio. Ci sentite? Che noi onestamente non sentiamo, cerchiamo di interpretare il naviale del Votor Robiglio. Certo, siete in muto, quindi siete in muto con Zoom, quindi è giusto che non vi sentiamo. Ecco, adesso abbiamo recuperato l'audio. Scusate, ma... Mi stavo chiedendo se era il problema del mio udito, vista l'età, ma però sono a fianco a un giovane come Gai, di conseguenza non poteva essere che io non sentissi e lui sì. Non sentivamo entrambi, ma era un altro. Beh, a mia volta ruberò pochi minuti per intanto ringraziare, ringraziare di cuore per questa opportunità importante per entrambe le realtà, Skillab, Gruppo Prime, Gruppo Ebba, ovviamente, perché oggi iniziamo un percorso che a mio avviso può essere estremamente interessante, ma soprattutto di estrema utilità, di grande utilità per le imprese. Ringrazio quindi Marco come Presidente dell'Unione di Torino, ringrazio il Presidente Jolie, che spero poi di poter conoscere prima o poi dal vivo, perché non abbiamo avuto ancora questa occasione. Saluto l'amico Rosi, con quale tante volte abbiamo parlato di poter fare qualche iniziativa legata al mondo della formazione e alla fine chi la dura la vince, ci siamo riusciti. Saluto chiaramente anche la collega Koch, che oggi in qualche modo spiegherà al meglio i dettagli di questo progetto. Da piccolo imprenditore, perché tale sono, e avendo avuto anche la fortuna, il grande onore di rivestire i panni del Presidente Nazionale di Piccola Industria, posso rappresentare in qualche maniera quelle che sono le esigenze delle piccole imprese, che abbiamo cercato poi di interpretare e realizzare attraverso pragma nell'operatività quotidiana e in quello che è il core business della stessa pragma. Quindi la necessità, sempre più in un mondo complesso, articolato, e dove il cambiamento la fa da padrone, la possibilità e la necessità di rispondere alla crescita delle persone. A me piace definire persone quelle che di solito vengono chiamate risorse umane, perché per risorse intendo altre tipologie di prodotto, invece la persona è quanto di più importante esista per il successo delle imprese. Sulle persone oggi noi sappiamo di dover lavorare, non solo in termini di competenze specifiche, di technicalities, ma di dover lavorare anche, come dicevamo, in un'ottica di adeguamento al cambiamento e all'innovazione, in tutto quello che è l'emotività, in tutto quello che è la crescita delle soft skills, della fiducia in se stessi, della capacità anche di assumersi responsabilità e rischi, quello che noi chiediamo, di solito noi imprenditori, ai nostri collaboratori, ma in realtà chiediamo innanzitutto a noi stessi. Ebbene, questo tipo di percorsi formativi, che sono altrettanto importanti, necessitano chiaramente di competenze, necessitano anche di tecnologie, perché oggi dobbiamo necessariamente affidarci alle tecnologie per efficientare e ottimizzare tempi che viceversa non riusciremmo più a gestire, visto la velocità nella quale ci muoviamo ogni giorno. Ebbene, queste tecnologie sicuramente vengono interpretate al meglio dalla piattaforma E-Dive, ma possiamo anche dire che vengono soprattutto interpretate al meglio dalle persone, dai coach certificati che mettiamo poi a disposizione dei nostri percorsi formativi, che sono sicuramente quanto di più strategicamente opportuno e necessario per appunto mettere le persone in grado di assimilare, in qualche modo di crescere, di accrescere le proprie capacità. Ritengo quindi che questo accordo di oggi possa essere una via maestra, non soltanto nel territorio piemontese, nel territorio torinese in particolare, ma possa poi diventare un qualcosa, e io auspico ovviamente anche da imprenditore, soprattutto da imprenditore, possa diventare un percorso calabile anche su altre realtà associative, perché in questo modo noi certamente potremo, ne sono convinto, anche portare la cultura del coaching e dell'e-coaching in particolare, in altre realtà, alle tantissime PMI italiane che potranno averne un immenso giovamento. Non voglio rubare altro tempo perché credo il pezzo forte debba venire, certamente non siamo né io né l'amico Marco Gai, con tutta l'ammirazione e la stima che ho per lui, non siamo certo noi il pezzo forte, ma il pezzo forte è quello che ci verrà oggi raccontato, e soprattutto il pezzo forte sarà l'accordo che andiamo a firmare, e che sono convinto porterà moltissimo in beneficio alle piccole e medie imprese del territorio. Grazie e un caro saluto ancora a tutti. Grazie Carlo. Grazie ad entrambi i presidenti, soprattutto per aver sottolineato come la tecnologia sia al servizio, ma noi non vogliamo sostituire i coach, vogliamo farli lavorare ancora di più e ancora meglio. E sull'onda di questa affermazione direi che l'intervento di Barbara Graffino, che tra l'altro di temi come quello della digitalizzazione, della formazione, è comunque molto esperta, oltre a essere presidente dei giovani imprenditori, e le chiedo il suo intervento. Grazie Barbara. Grazie, grazie a voi, grazie ai presidenti che in realtà hanno già detto veramente molto, ma grazie a Riccardo perché ci tiene sempre ad avere il gruppo giovani presente alle iniziative di Skillab, c'è anche Giulia qui con me, siamo felici di poter essere e partecipare alle vostre attività. Non aggiungo molto se non che quello che ho detto a Riccardo quando mi ha raccontato di questa iniziativa, che trovo particolarmente meritoria per quello che è già stato detto, ma perché in quest'epoca, dove parliamo di continuous education, questo tipo di attività sono veramente, veramente importanti. Diceva il presidente Robillo, le persone sono chiave, e lo sappiamo molto bene nelle nostre organizzazioni, quanto è importante avere persone motivate, avere persone che crescono, quindi da un lato saper attrarre talenti, ma soprattutto saperli mantenere e far crescere nelle nostre aziende. E sono queste le attività che aiutano. E come ho detto a lui, personalmente ho vissuto un percorso di coaching, che è stato più di tantissimi corsi di formazione, magari più tradizionali, più frontali, un momento che ha segnato in maniera positiva il mio percorso professionale. Quindi ha ulteriore, come dire, sottolineatura di quanto sia giusto procedere con questo tipo di attività. Ne siamo così convinti che anche all'Unione Industriale abbiamo proposto, non un programma di coaching, ma di mentoring e di testing per le start-up, proprio perché crediamo che questo tipo di modalità sia quello che fa crescere le persone e crescere le nostre aziende. Quindi un grande complimento da parte mia, sono molto curiosa di vedere come vanno queste attività. E' certa di aver lasciata le conclusioni in mani sapienti, come quelle di Cristina Tumiatti. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie davvero Barbara di essere riuscita a salutarci in questo modo così importante. Passerei senz'altro la parola al nostro Presidente, a Francesco Jolie, il quale ha veramente un ruolo formidabile di essere una pietra di sostegno della nostra attività, perché ci concede fiducia e grande incoraggiamento. Non potrei chiedere di meglio, quindi chiedere a lui di salutarci. Grazie a Riccardo, in realtà è lui il grande timoniere. Io ringrazio immediatamente Marco Gai e Carlo Robiglio, perché il vostro endorsement, la vostra presenza qui e ora, rubandovi a oneri ben più, diciamo, ponderosi, mi fa veramente molto coraggio. In più mi aggancio immediatamente al fatto di come sia comodo sfruttare il web e sapervi a Roma, ma anche qui con noi. Quindi la piattaforma iDive la trovo geniale. Mi è da pensare che sia un po' come il delivery del cibo. Qui però non facciamo del delivery del cibo, o meglio facciamo del delivery del cibo per l'anima dei manager e degli imprenditori. Peraltro le testimonianze credo vadano in questo senso. E facciamo una cosa che trovo molto piacevole, che ha molte analogie con gli sport, mi confermavano quanto fosse vero. Da sportivo della domenica faccio malamente una cinquantina di sport. So che differenza c'è tra l'essere allenati all'interno di una squadra ed avere un personal trainer. È veramente differente perché vieni misurato, stabilisci una meta da raggiungere, dopodiché credo che tutto questo venga seguito passo passo, passo con verifica periodica. Questo sta a dire cosa? Che la formazione non deve essere un evento vissuto one shot e basta. È un evento che va continuamente portato avanti. Mi viene in mente ordini professionali che hanno la formazione continua, che prendono i crediti formativi. Forse bisognerebbe pensarci anche in azienda. No, forse dovremmo dare noi un impulso per dare continuità a tutto ciò. E le analogie con lo sport si sprecano. Se vogliamo arrivare da qualche parte, dobbiamo per forza tutti i giorni dedicare del tempo a Anistasi. Non ti sentiamo più, Francesco? Non ti sentiamo? Sì, ma lo sa. Sembra che lo sappiano. Stanno cercando di mettere a posto il microfono. Purtroppo ci sono di nuovo. Eccomi. Concludo rapidissimamente. Ha ragione Marco, ha ragione Carlo, nel momento in cui dicono che il fattore umano fa veramente la differenza. Stamane leggevo distrettamente i risultati di alcune case nel comparto automotive che sta vivendo veramente un terremoto pazzesco. Dobbiamo chiederci perché ci siano aziende in quel comparto che vanno meglio di altre. A mio avviso il fattore umano lì premia molto. Al di là delle difficoltà di segmento, essere outperform talvolta vuole anche dire la differenza tra lo scomparire e il rimanere. Credo che alla fine sicuramente le macchine fanno tanto, le istituzioni anche molto. E viva le istituzioni come la nostra che hanno messo in piedi veramente un sistema dove oggi non ci sono più scuse. Perché stai pure in ufficio ma fai formazione con la piattaforma iDive. Mi piace pensare che voglia dire iDive, io vado in profondità, faccio diving, credo che voglia dire quello. Quindi grazie davvero di cuore a chi è collegato e grazie a chi vorrà contribuire in futuro a un sistema che trovo vincente e adeguato ai tempi. Grazie mille. Grazie Presidente, hai semplicemente, mi hai dato ragione nel dire che sei una pietra di assoluta importanza sulla quale poter sviluppare le nostre attività. Le tue convinzioni sono le nostre. Allora adesso tratterà alla dottoressa Koch che è un po' la madrina di tutta questa. Io non voglio però dimenticare una persona importante, importante per me ma per tutti noi che è Carlo Tabaini che ci ha accompagnato in questa lunga trattativa. Ma non perché avessimo tante cose ma perché è stata complicata. Non è un sistema facilissimo da mettere a disposizione per tutti. Loro sono riusciti tra l'altro con la grande prerogativa di non togliere spazio alle persone, all'intelligenza umana, ma di amplificarla e di renderla più fruibile, più facilmente sviluppabile e diffondibile. Un po' come ci ha raccontato col suo punto di vista di uomo di sport, anche se è sempre molto schivo nel dirlo, del nostro Presidente. E quindi io adesso non ho altro che da chiedere a Oriana che cosa abbiamo a disposizione da adesso, perché questo nostro accordo si estenderà tutto il 2025 e permetterà alla nostra clientela, ai nostri soci, alle nostre aziende, ai nostri personaggi di azienda di poter essere supportati nelle azioni che noi svolgiamo anche con strumenti personalizzati, spendibili in tempi reali, con poca spesa di spostamento e poca spesa anche di utilizzo, laddove sono impegnate non solo la ricerca delle migliori competenze, ma anche quelle che si chiamano le soft skill oppure empowerment, oppure un altro problema sul quale stiamo studiando e presto o tardi vi daremo delle novità, cioè sul problema anche del desk healing, perché una cosa importantissima che si verifica, purtroppo con la crescita esponenziale dei temi del digitale, è anche il desk healing. Io ricordo, qui termino il mio piccolo siparietto, di aver invitato nel 2019, in tempi non sospetti, fratel Benanti, per parlare proprio di questo negli stati generali dell'education che ho organizzato insieme all'ufficio scuola di Confindustria proprio a Torino, e lui venne a raccontarci proprio di questo rischio gigantesco, che accanto all'upskilling che è necessario per, diciamo così, di attraversare il mondo digitale c'è il rischio, in molti casi, di avere anche un desk healing. Quindi avere degli strumenti di recupero, di supporto, anche personalizzati, è fondamentale. E non deve essere solo una prerogativa dell'amministratore delegato, io ne avrei di un gran bisogno, per esempio, anziano come sono, ma da un altro punto di vista questo veramente è anche, se mi permettete, un segno di grande democrazia di gestione delle imprese, quello di mettere questi sistemi e questi strumenti all'interno delle nostre attività. E quindi chiedo a Doriana, che di questa è un po' la, come dire, la creatrice, di raccontarci di Idale. Allora, intanto, buon pomeriggio a tutte e a tutte. Ringrazio Skill Lab dell'ospitalità anche di essere qui, sono felice anche di essere in presenza, quindi è anche un'opportunità importante. Allora, mi collego al Presidente Jolie perché in effetti iDive, diciamo la parola dive, è proprio immersione. Noi siamo partiti con questa idea, proprio nel senso del creare un'esperienza immersiva di formazione. Immersiva che ultimamente ci riporta un po' anche all'utilizzo di dispositivi tecnologici, molto magari futuristici come realtà virtuale o realtà aumentata, ma in realtà è immersiva perché è continua. Quindi riprendendo anche le parole della Presidente Graffino, è proprio quello di cui noi andiamo a presentare oggi, a vedere insieme, è proprio un esempio di esperienza continua di formazione e di cambiamento che avviene attraverso una relazione tra persone, perché la relazione avviene tra persone, che sono supportate da una tecnologia, quindi una relazione supportata, potenziata dalla tecnologia. iDive è la prima piattaforma italiana di coaching, ma prima di entrare, diciamo, nel merito, sono partita un po' dal concetto, ma cos'è il coaching? Il coaching, come citava anche il Presidente Jolie, giustamente ci siamo dati l'assist non essendoci neanche preparati, il coaching deriva innanzitutto dalla parola coach, che significa appunto carrozza, e quindi deriva dal XV secolo, è un termine che l'abbiamo visto per la prima volta in quei tempi lì, ma più tardi, diciamo, nei nostri ultimi anni, la prima volta che si parla di coaching è proprio in ambito sportivo, c'è il primo libro che parla di coaching, è proprio un libro, The Inner Game of Tennis, di Galloway, in cui Galloway, che è un tennista, era un formatore tennista, dice e racconta, poi arriva al succo, dicendo che l'avversario che si nasconde nella nostra mente è più forte di quello dall'altra parte della rete. Questo dà, diciamo, l'assist, sempre per rimanere in ambito sportivo, anche a chiederci cosa non è un coach, perché il coaching si basa su una relazione tra un coach e un coaching, ma cosa non è un coach? Innanzitutto, un coach non è un terapeuta, cioè il coach non parla mai del passato, si focalizza sul presente e sugli obiettivi futuri e nel nostro contesto obiettivi professionali, quindi noi facciamo business coaching, non facciamo life coaching, mental coaching, sport coaching per gli sportivi, facciamo coaching in questo contesto per persone che lavorano all'interno di organizzazioni. Il coach non è un consulente, cioè non è un counselor, il coach non ti spiega come fare le cose, non dà consigli, e il coach non è un mentore, cioè il coach non condivide il mentore colui che condivide la propria esperienza e indica la via, ma il coach invece è colui che parte dall'assunto, che la persona che ha di fronte ha tutte le risorse all'interno per arrivare ai suoi obiettivi. Questo è il principio chiave e su cui si basa anche l'etica del coach. Il coaching è una... il coach, scusate, la professione del coach è una professione che non è, diciamo, regolamentata, quindi ordinistica, ma è una professione che comunque si collega a delle associazioni molto importanti a livello internazionale. Per citarne una, quella più rappresentativa, che raccoglie più di 30.000 coach in tutto il mondo, che si chiama ICF, cioè International Coaching Foundation, e a cui noi siamo strettamente legati, sono reduce dalla conferenza nazionale della scuola di dieci giorni fa, e il primo assunto del codice etico, per esempio, dell'ICF è proprio questo. Cioè il coach parte dall'assunto che il coach è la persona che ha di fronte a tutte le risorse. Quindi il processo di coaching che cos'è? È una partnership. È una partnership tra coach e coci, che in cui si vanno a definire obiettivi chiari e misurabili e piani d'azione concreti, concordati in ogni sessione, in ogni incontro. Ma cos'è l'e-coaching? Perché il titolo oggi dell'evento era proprio sull'e-coaching, in cui abbiamo aggiunto questa parola, questa lettera, è davanti alla parola coaching. L'e-coaching, qui non si legge bene, perché ovviamente ho fatto uno screenshot da Wikipedia, ma trovate la voce, è una voce su Wikipedia che abbiamo scritto noi nel 2020. L'abbiamo scritta perché nel momento in cui è nato iDive. Cioè iDive è nato da un'idea, insieme ad un gruppo di coach, di poter digitalizzare il processo di coaching mantenendo umana, cioè strettamente reale, la relazione tra coach e coci. Quindi quello che noi abbiamo digitalizzato è il processo. Abbiamo digitalizzato il processo per dare vita, anche per dare l'opportunità a un maggior numero di persone di poter usufruire di processi di coaching che sono esperienze di sviluppo, sviluppo personale, ma con finalità diciamo professionale. L'e-coaching come funziona? Normalmente questo è un esempio, no? Come funzionano i coach? Un percorso di coaching si basa su alcuni aspetti fondamentali. In questo caso ne abbiamo messi tre principalmente. Un primo che è il tripartito, il cosiddetto triangle, si chiama anche in termine tecnico, che è un primo incontro che avviene tra il coachee, cioè la persona che lavora all'interno di un'organizzazione e che ha un obiettivo di sviluppo, il coach, che è un coach certificato, come dicevo prima, da ICF ad esempio o altre organizzazioni, è il responsabile, il manager del coaching. Con quale obiettivo? Quello di condividere gli obiettivi del percorso di quella persona e quindi gli obiettivi che vanno nella strategia di crescita delle sue competenze. Poi ci sono delle sessioni di coaching. Le sessioni di coaching sono sessioni che avvengono in maniera sincrona, che possono essere, diciamo, digitali, quindi attraverso Teams o Zoom, come siamo adesso, o possono essere anche in presenza. L'aspetto fondamentale di queste sessioni è la sincronicità, che avviene in sessioni che avvengono tra coach e coachee. Durante, diciamo, in questo periodo, che normalmente un periodo, un percorso di coaching, dura dai 4, 5, 6 mesi in funzione degli obiettivi, avviene quello che vedete sotto nella terza casella, il cosiddetto e-coaching, cioè un percorso che va oltre, che avviene prima e dopo le sessioni sincrone. Quindi tutta l'attività in asincrono che aiuta il coachee ad allenarsi su quei comportamenti, comportamenti, in quelle palestre, che per il coachee sono fondamentali nello sviluppo delle competenze che vuole raggiungere. Quindi, ah, scusate, quindi, ecco, questa è la rappresentazione del triangle, no, vedete coach, coachee, responsabile del coachee o manager, in cui si focalizzano gli obiettivi, si allinano le aspettative e si orienta il percorso con comportamenti concreti, perché durante questo percorso ci sarà un monitoraggio dei comportamenti agiti da parte del coachee nella vita professionale. Questo è un classico viaggio del coachee all'interno del percorso di coaching. Quindi c'è un kick-out, ci sono delle incontri di individual coaching e ci sono tutte le attività che avvengono in asincrono, quindi su ogni dispositivo, desktop, mobile, eccetera, in piattaforma. E le relative azioni di allenamento, sempre ritornando al tema, alla metafora sportiva. La metodologia di iDive e della E davanti alla parola coaching si basa sulle neuroscienze. Perché? Perché le neuroscienze ci dicono che per sviluppare nuove abitudini, quindi per cambiare, per sviluppare nuove abitudini, quindi nuovi comportamenti in azienda, in comportamenti agiti, organi professionali, abbiamo bisogno di essere costantemente stimolati a farlo. Perché altrimenti la formazione, come la conosciamo, one shot, se non viene agita costantemente e monitorata e non siamo guidati, non è così efficace. Ecco perché il nostro approccio si chiama FAI, Focus, Effort, Insistence. Cioè il coach sostiene il coaching nel definire il proprio percorso, sostiene lo sforzo e insiste e attraverso la piattaforma, che prevede tutta una serie di notifiche semi-automatizzate, anche seguite dal coach, può dare quegli input fondamentali da poi favorire il miglioramento dei comportamenti. Quello che noi offriamo con questo approccio sono tre tipi di coaching, individual, team e group. Sono individuale, quindi percorsi per la singola persona, percorsi per un team, quindi un gruppo di persone che sono team anche in azienda, e percorsi di gruppo, team coaching, che sono percorsi di gruppo su persone che hanno una caratteristica simile, ad esempio i talent. iDive si basa su quattro pilastri, la possibilità di scegliere traguardi personalizzati e individualizzati, ognuno ha il proprio traguardo, azioni personalizzate e individualizzate per allenare nuovi comportamenti, quindi in funzione, se io lavoro sulla lucidità cognitiva, ad esempio, avrò i miei allenamenti su questo tema. Se lavoro sul coraggio, avrò i miei allenamenti sul tema del coraggio. Una relazione con un coach certificato, personale e strettamente riservata, questo si appoggia al codice etico dell'ICF e quindi anche delle nostre certificazioni, e last but not the least, la possibilità di chiedere feedback costanti sul proprio percorso, a chi? A tutti quelli che possono offrirmi un feedback e possono aiutarmi nel mio miglioramento. Chi sono? Può essere il mio manager, possono essere i miei colleghi, possono essere anche persone che lavorano nella mia azienda, ma che non sono colleghi diretti, però che vedono me agire un comportamento. Ad esempio, oggi, io se facessi, se fossi in questo momento, se facessi un percorso di coaching su iDive, potrei alla fine di questo incontro chiedere ad ognuno di voi un feedback specifico sulla mia capacità di essere di comunicazione efficace in questa riunione, in questo incontro, chiedendovi un feedback da 1 a 9 su un comportamento specifico, ad esempio, ascolto o, diciamo, efficacia nell'esporre determinati concetti. Questi sono alcuni screenshot della piattaforma, quindi questa è la parte del traguardo personalizzato. le aree di capacità, le otto aree, che sono in costante, diciamo, anche evoluzione, perché queste aree di capacità che si collegano alle soft o alle power skills non sono aree che sono scolpite nella pietra, perché evolvono anche in funzione della nostra evoluzione. Oggi, sempre più, faccio un esempio pratico, il tema della, diciamo, della capacità di gestire i conflitti sta emergendo in maniera molto forte, soprattutto in determinati ambiti. Pensiamo in ambito scolastico, pensiamo in ambito sanitario, quindi questo tema qua sta, in questo momento, noi stiamo incrementando, alimentando i nostri allenamenti, anche tenendo conto dell'evoluzione di quello che accade nella società e nelle professioni. Questa è la parte delle azioni, le azioni sono delle attività interattive, multimediali, che si possono fare in ogni momento e in ogni dove. Questi sono gli allenamenti, diciamo, base in iDive, vedete un po' dal parlare alle persone, ad governare le emozioni, o al peer shadow, molto importante ed interessante, soprattutto anche per la lucidità. Questa è la parte dedicata al cosiddetto e-coaching, quindi la relazione in assincrono, oltre la video call o l'incontro con il coach, che avviene costantemente con il coach, e la possibilità di richiedere feedback. Quindi, in sintesi, che cosa ci può dare un'esperienza di questo genere? Ci può dare, considerato anche il contesto e il contesto in cui ci muoviamo, e grazie anche, devo dire, all'attenzione e all'ascolto che ha avuto il dottor Rosi e tutto il team di Skillab, rispetto anche a questa nostra iniziativa, anche grazie al pilota, voglio dire, ci può portare, ci possono, possiamo, diciamo, lavorare, avere come benefici sicuramente la libertà di scegliere quando e dove allenarsi. Cioè, il digitale, questo ci aiuta. Ci possono, possiamo avere a disposizione coach esperti e certificati, ma esperti di contesti aziendali complessi. Quindi, i nostri coach, noi abbiamo, noi non facciamo un'assegnazione automatizzata del coach, non c'è un algoritmo automatizzato, non c'è un'intelligenza artificiale, c'è un'intelligenza umana che assegna un coach a un coachee. Perché l'intelligenza artificiale, questo lo dico, che è un strumento che viene utilizzato anche da altre piattaforme, servizi, nostri competitor, è un'intelligenza che non tiene conto di aspetti che invece sono prettamente umani. Perché non tutti i coach vanno bene per tutti i coachee. Quindi, questo ci porta a dire che, mentre normalmente nel nostro mercato c'è un churn rate, c'è un tasso di abbandono da parte di un coachee rispetto al coach che gli viene assegnato di circa il 20, 25, 30%, attualmente si è alzato sul 28%, noi abbiamo un tasso di abbandono bassissimo. Per farvi un esempio, in 3.000 percorsi di coach individuale che abbiamo attivato in sei anni, abbiamo avuto due volte la richiesta di cambio coach. Questo è un risultato, voglio dire, di cui vado anche molto orgogliosa perché abbiamo scelto di non utilizzare un'intelligenza artificiale nel fare questo matching. Terzo, la possibilità di scaricare anche strumenti utili non soltanto per il coachee stesso, ma che il coachee può utilizzare anche nel suo lavoro con i propri collaboratori, con i propri colleghi, quindi nel portare anche in azienda, sempre il tema della formazione che è l'apprendimento della persona, ma anche la capacità di portare un know-how e un knowledge, un corporate, una corporate knowledge che è importante. Last but not the list, la possibilità di allenarsi su casi reali e concreti, molto vicini, se non addirittura diciamo con la funzionalità del feedback inseriti nell'esperienza, nella realtà lavorativa della persona. So che di essere andata lunga, volevo dire parecchie cose, quindi mi scuso con il direttore anche magari se ho superato un po' di tempo, però se ci sono domande ovviamente siamo disponibili, spero di aver, voglio lasciarvi con un messaggio fondamentale, il messaggio è il seguente, cioè noi, ciascuno di noi in questo momento si trova ad affrontare un periodo di rapidi cambiamenti sociali, tecnologici, culturali. Le nuove generazioni sono molto diverse da come siamo noi, hanno modelli di apprendimento molto diversi da noi, modelli di ingaggio, di motivazione e di lavoro molto diversi da noi. Un percorso guidato di questo tipo può supportare anche la capacità di integrare diverse generazioni all'interno delle aziende perché può far diciamo aprire diciamo il avere favorire un approccio collaborativo e anche win-win per le persone che collaborano e lavorano all'interno dei contesti aziendali che sono sotto pressione in questi tempi sempre di più e su cui abbiamo bisogno veramente come diceva il mio presidente di pensare e di focalizzarci sulle persone quindi la tecnologia a supporto delle persone. Grazie. Grazie Oriana per quanto ci hai raccontato e che abbiamo dato un'idea delle motivazioni per cui siamo giunti a questo accordo ma nello spiegarci anche il quando è nata questa iniziativa a me è venuto in mente che il periodo di nascita corrisponde ad una esperienza che tutti noi abbiamo fatto magari in ruoli diversi ma nel mio caso mi ha particolarmente segnato perché ho avuto l'onore ma anche la grande responsabilità di essere il coordinatore della task force durante il periodo del covid che ha dovuto diciamo così realizzare tutta una serie di interventi da quelli tecnici a quelli politici nei confronti della prefettura a quelli di come dire supporto ai nostri imprenditori nei quali mi resi conto nei circa due mesi e mezzo in cui non sono uscito letteralmente di casa e lavorando praticamente tutti i giorni e tutto il giorno di quanto fosse complicato essere di vero supporto alle nostre imprese e soprattutto ai nostri imprenditori da questa esperienza che trovò molti anche riscontri proprio nei nostri associati la piccola industria che ha sempre le antenne finissimamente puntate su questi fenomeni propose un percorso un percorso che desse anche del supporto ai nostri imprenditori quello che avevamo fatto in maniera non così professionale come i coach ma che avevamo fatto tutti noi che avevamo partecipato a questa grande grandissima emergenza e questo diciamo progetto ha poi avuto in dive il come dire l'attuatore quindi tutto si tiene come si come si direbbe siccome questo progetto così come il pilota così come l'accordo è stato seguito dalla mia collega Tiziana Sibona io passo direttamente a lei la parola e il ruolo di conduttrice perché ci possa presentare le testimonianze dei nostri due imprenditori collegati a te Tiziana grazie Riccardo e buon pomeriggio a tutti sì io ho avuto effettivamente la fortuna di seguire diversi progetti realizzati negli anni con piccola industria che è sempre portatrice di novità e di innovazione all'interno dei progetti formativi che l'unione industriale sponsorizza per gli imprenditori per le aziende associate e proprio dopo il covid abbiamo lanciato questo progetto di e-coaching a cui hanno aderito quattro imprenditori essendo un progetto pilota anzi due imprenditori e due imprenditrici che hanno avuto quindi l'opportunità di vivere in concreto l'esperienza dell'e-coaching con la piattaforma e-dive ovviamente accompagnati dal personal coach e con l'utilizzo della piattaforma come vi dicevo il progetto è stato ovviamente condiviso con gli imprenditori nell'ambito di un kick-off in cui sono stati proprio spiegati quelli che erano gli obiettivi del progetto quali le attività previste la tecnologia che sarebbe stata utilizzata quindi la piattaforma ma c'è anche stata una presa di consapevolezza da parte degli imprenditori dell'ingaggio del loro impegno in questa attività perché come diceva Oriana prima un processo di coaching di e-coaching richiede sempre grande impegno da parte delle persone soprattutto anche la volontà di iniziare un processo un periodo di cambiamento e di carattere personale ma che effettivamente può incidere anche sull'intera organizzazione abbiamo poi avviato quindi l'attività di e-coaching che è durata circa 4-5 mesi è stata costantemente monitorata perché questa piattaforma ci dà la possibilità di monitorare i progressi e tramite le varie palestre ognuno ha fatto il proprio percorso ed abbiamo raccolto i feedback che sono stati fortunatamente molto positivi ed oggi abbiamo qui con noi appunto due imprenditori come il presidente Gai già prima ci anticipava Alberto Berrino titolare di Berrino Printer azienda leader nella stampa e Giovanni Fracasso CEO di Overlab azienda che sviluppa invece prodotti e soluzioni digitali per l'efficientamento della produzione li ho presentati per chi non li conosce sono due importanti imprenditori che partecipano sempre molto attivamente alle attività che vengono proposte in unione però mi sembrava comunque giusto presentarli per chi partecipa al nostro incontro che non ha mai avuto l'occasione di lavorare con loro io vorrei fare ai nostri due testimonial alcune domande proprio per capire meglio quella che è stata la loro esperienza innanzitutto quali sono state le motivazioni principali che li hanno spinti ad intraprendere questa questo percorso di coaching e quindi questo percorso di cambiamento chi vuole iniziare Giovanni piuttosto che Alberto a voi Giovanni vai tu io io volentieri volentieri beh allora le motivazioni sono sono tante soprattutto in realtà per me non era una novità nel senso che avevo già fatto in passato dei percorsi di coaching di coaching però non i ma coaching normale in tempi pre-covid ed avevo trovati estremamente utili per l'automiglioramento più che business coaching si trattava di life coaching giusto per capire di che cosa stavamo stiamo parlando però in tempi di covid cioè nel 2020 quando la situazione che ha descritto poco fa Riccardo metteva veramente paura il mio allora ero presidente della piccola industria e avevo vicepresidente che adesso è vicepresidente di Marco Gai Emanuele Musso e Lele senti io ho tanta paura che i nostri colleghi perdano l'ottimismo perdano la fiducia nel futuro perdano la fiducia in se stessi in questa situazione terribile bisognerebbe trovare il modo di mandargli uno psicologo a casa o di mandargli dallo psicologo e dice guarda che l'imprenditore dallo psicologo non ci va a meno che non capisca di essere malato ma dallo psicologo non ci va magari va dal coach e il coach che non è uno psicologo o magari anche uno psicologo ma comunque il coach dal punto di vista professionale ha il dovere di segnalare nel momento in cui riscontrasse delle situazioni patologiche quindi una depressione quindi livelli di ansia patologici eccetera che era quello che temevamo ha il dovere di comportarsi di conseguenza quindi di segnalare queste situazioni non di intervenire come coach naturalmente di fermarsi ma di far chiarire far capire alla persona che ha bisogno di un supporto professionale di altro genere e allora sulla scorta di questo partimo con un primo progetto che il nonno di quello che stiamo presentando oggi si chiamava liberamente ebbe un ottimo successo tanto che lo riplicamo anche l'anno successivo e non mi stupisce il fatto che ci siano 40 persone iscritte oggi perché a quelle due edizioni di liberamente parteciparono molti molti imprenditori con soddisfazione quindi il motivo per cui quando siamo partiti con la sperimentazione iDive io ormai avevo ceduto la presidenza a Filippo e per me è stata una cosa naturale avendo già fatto il percorso prima avendo visto le utilità proprio anche nel nostro ambito di questo tipo di percorso quindi mi sono immediatamente buttato con entusiasmo grazie Giovanni e per te Alberto invece? ma sì buongiorno a tutti io a differenza del collega non avevo partecipato mai a un coaching vero e proprio se non magari a solo delle giornate così in qualcosa del genere che però poi effettivamente ti lasciano poco sei molto carico magari nei giorni successivi ma poi la cosa va un po' scemare questo progetto che comunque prevedeva un lasso di tempo ovviamente un po' più lungo e non eccessivo e con la possibilità di farlo faccia a faccia anche se attraverso il computer ma poi con una piattaforma dove comunque si potevano condividere documenti e avere degli spunti la cosa mi ha mi ha stuzzicato era un momento forse che avevo anche bisogno di di avere di fare un'analisi che non è la solita analisi che un imprenditore si fa da solo guardandosi lo specchio o confrontandosi con i collaboratori ma un'analisi attraverso una persona che fa quello di mestiere e che riesce a stuzzicarti riesce un attimino a capire quali sono effettivamente le tue debolezze o quelle che tu attraverso gli obiettivi che uno va a ricercare e vuole vuole migliorare grazie Alberto Giovanni ma questo percorso di coaching ti ha aiutato a raggiungere dei risultati concreti gli obiettivi che tu ti sei posto passo passo sei riuscito a raggiungerli senza dirci quali e vogliamo solo sapere se ti è stato utile da questo punto di vista allora è stato certamente utile è stato secondo me ancora troppo breve per poter ottenere a pieno diciamo così le potenzialità del percorso è stato breve perché è stata una sperimentazione adesso che partiamo poi col progetto vero se ne riparla però devo dire che sono forse stato anche fortunato nella scelta del coach devo dire che mi ha nonostante avessi già fatto in altre occasioni percorsi simili mi ha fatto capire alcune cose alcuni meccanismi del mio modo di pensare o di agire di cui non mi ero mai accorto ma erano evidentissimi quindi sì è estremamente utile Alberto invece a te vorrei chiedere qual è stata la relazione che sei riuscito a costruire con il tuo coach perché comunque la piattaforma digitale lo strumento digitale è stato comunque efficace avete costruito una buona relazione oppure ci sono stati degli ostacoli delle resistenze come ci diceva anche prima Oriana è fondamentale fare un buon abbinamento tra coach e coach sì certo ma l'utilizzo della piattaforma o comunque del mezzo del video con il coach ormai ci siamo un po' tutti abituati proprio dal discorso del covid in avanti è diventato un po' una cosa abbastanza comune e segni è iniziata con la necessità di doverlo fare per forza perché era l'unico mezzo per poter avere un determinato tipo di riunione o di rapporto con le persone è diventato poi un mezzo vero e proprio e quindi personalmente non ho avuto difficoltà ad approcciarmi a questo sistema e poi comunque il coach si è instaurato subito un buon rapporto comunque un momento dove si è da soli si è uno a uno e devo dire che è stata un'esperienza positiva grazie un'ultima domanda per entrambi in base alla vostra esperienza voi raccomandereste ai vostri colleghi imprenditori ai manager un percorso di coaching ma anche ai tanti HR manager che oggi sono presenti a questo incontro proprio per lo sviluppo delle persone che lavorano nelle loro imprese allora certamente sì e se posso dire io raccomanderei più non so se dico qualcosa di fuori dalle righe ma più un percorso di e-coaching che un percorso di coaching perché secondo me è meglio e cioè in cosa al di là della comodità del fatto non doversi spostare vabbè ma la piattaforma in realtà è un mondo la possibilità di navigare nella piattaforma per una persona che ha un po' di curiosità o voglia di migliorare se stesso la possibilità di andare a navigare di dentro andare a scopugliare a cercare le cose le abilità le possibilità che ci sono e secondo me è impagabile nel senso che se tu fai un percorso di coaching e basta per te il coaching è quello che ti dice il tuo coach quello che fate insieme al tuo coach con questa piattaforma ti si allargano gli orizzonti e puoi andare a chiedere cose che magari diversamente non chiederesti grazie Alberto sì io sicuramente lo lo raccomando soprattutto se qualcuno non non ha mai fatto un coaching poi fatto in questa maniera appunto come diceva Giovanni c'è la facilità e l'opportunità di avere una piattaforma dove comunque anche solo alla sera oppure in momenti in cui sono un po' più recettivo riesco a collegarmi a sfruttare le potenzialità e sicuramente da raccomandare anche ai manager perché noi ci confrontiamo sempre tra imprenditori però in aziende un po' strutturate sicuramente il manager è quello che ci aiuta più di tutti e quindi è raccomandabile anche il manager grazie per le vostre testimonianze preziosissime avevamo sentito le illustrazioni e le spiegazioni di Oriana ma voi avete dato ulteriore supporto alle meraviglie che lei ci ha raccontato poco fa grazie grazie anche a Tiziana riprendo la parola solo per chiedere se qualcuno avesse qualche domanda o qualche impressione da rivolgerci chiedendo nel caso in cui questo non fosse di prendere la parola a Cristina Cristina Tumiatti vicepresidente della piccola industria ma anche tanti altri ruoli che ha svolto e quindi ci conosciamo e lavoriamo insieme da tanti anni in effetti con piccola industria abbiamo sperimentato tantissime cose a volte erano delle esperienze veramente diciamo così pionieristiche lo è stato con il periodo ormai un po' passato di tempi con Carlo Tabbaini lo è stato con Daniela Raiguelia con cui poi abbiamo sviluppato anche questo sistema di supporto che ha dato poi origine alla mia ricettività come la definiva Oriana all'inserimento di questo strumento nell'arco meglio nelle frecce che possiamo scoccare come skill lab negli strumenti che possiamo mettere a disposizione perché non va a sostituire niente va a rendere meglio o ad aggiungersi alle cose che possiamo mettere a disposizione dei nostri imprese i nostri imprenditori i nostri manager e delle persone che ruotano attraverso questo grande stress di essere sempre all'altezza sempre competitivo nelle difficoltà di tutti i giorni e quindi questo purtroppo è la dannazione ma anche la bellissima spinta che dà il piccolo imprenditore quindi la parola alla piccola imprenditrice ma grande persona Cristina Tugnani grazie Riccardo io direi che è stato detto veramente tutto la presentazione è stata molto puntuale quindi innanzitutto vorrei ringraziare ovviamente le partecipanti e partecipanti di oggi gli ospiti e la dottoressa che hanno parlato e in particolare grazie a skill lab che riesce sempre ad organizzare questi attenti percorsi in questo momento di coaching ma anche di formazione rispetto a quello che insomma di cui abbiamo bisogno noi imprenditrici e imprenditori e soprattutto nelle nostre organizzazioni e ovviamente a Pragma quello che posso dire è che l'anno scorso purtroppo non ho potuto partecipare perché le iniziative sono tante quindi se partecipi a uno poi devi cercare di di gestire anche l'azienda ma quest'anno mi vorrei subito iscrivere perché mi sembra un percorso esattamente quello di cui ho bisogno io che rincorro e anche miei il tempo se veramente mi sembra che sia uno strumento assolutamente adeguato a quelle che possono essere le nostre esigenze quindi non so se è già stato detto come potersi iscrivere vi lascerei di nuovo la parola e vi ringrazio ancora grazie Cristina in realtà non abbiamo ancora un corso in partenza proprio perché andremo dopo la firma che diciamo così travolti dalla vostra partecipazione positiva andremo ad apporre il presidente Jolie e la CEO di Pragma Lauriana Koch all'accordo e poi metteremo ben presto a vostra disposizione l'iDive sia per quanto riguarda un coaching mirato al coaching perché abbiamo capito che di questo ce n'è ancora di gran bisogno e sia anche quel supporto ulteriore in progetti diciamo più articolati non vi nascondo che noi stiamo per proporre un catalogo apparentemente nuovo ma in realtà è quasi rivoluzionario perché saremo assistiti anche da strumenti virtuali ma soprattutto cercheremo di parlare alle persone e dando le persone gli strumenti per riuscire a diciamo così a galleggiare sull'onda sulla cresta dell'onda in questi periodi molto complicati non è straneo tutto questo anche l'insorgere sempre più importante di questo mostro che tutti definiscono in modo diverso quello dell'intelligenza artificiale mai un titolo fu peggio speso ma comunque questo è un sistema di cui non possiamo negare l'impatto e l'importanza qualcuno molto saggiamente l'ha paragonato all'impatto dello smartphone quindi non possiamo fare a meno oggi degli smartphone non possiamo fare a meno credo anche dell'intelligenza artificiale basta saperla condurre e non esserne condotti questo è quello che speriamo di fare quindi io vi ringrazio e chiederei a questo punto in diretta ai nostri due al nostro presidente e al nostro amministratrice delegata di firmare questo documento alla presenza dei rimanenti che vogliono come dire assistere anche a questo momento stiamo procedendo con grande velocità perché abbiamo fatto solo due copie perché normalmente non c'è bisogno poi c'è appunto Oriana risparmia sulle lettere e anche io con il mio cognome da qua io ho quattro non mi chiamo Massimiliano e neanche Ugo ma comunque anche con me facevano risparmi mi parlavano per cognome in genere bene anche al nostro presidente grazie è stato molto attento durante gli interventi di tutti bene allora le firme sono praticamente terminate ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato in particolare mi permetto di ricordare i nostri due presidenti il presidente Marco Gai e il presidente Carlo Robiglio con il quale finalmente posso dire di essere in affari un grande saluto un grande abbraccio a tutti quanti voi grazie ancora e ci vediamo presto su queste su queste immagini ma anche su queste iniziative buon lavoro a tutti grazie buon lavoro a tutti buona serata a tutti buongiorno buon lavoro grazie grazie a tutti buona serata a tutti grazie 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 a tutti